Buongiorno lipari. Buongiorno professore Mancuso. Come sta papà? Buongiorno professoressa Mancuso. Ma come sta papà? Buongiorno lipari. Professore Mancuso, papà sta bene. Dovverti non una cosa veloce che c'è una partita di calcetta. Ma percetto ornevole. Scusa, non mi ricordo più le domande che ti dovevo fare. In questa università le cose non cambieranno mai se continueranno ad entrare i parenti, le parenti, i parenti, i parenti. C'ha ragione, lo zio. Io raccomandarti lì oggi e io per passare l'esame mi devo conciare così. Qui dobbiamo pagare tutti. Non è il figlio del rettore. Tutti sanno come ottengo successi ed è grazie a te. Non vuoi più essere il figlio del rettore, giusto? Perfetto, allora quella è la porta. Qua tu friggerai arancini. Roberto, da quando c'è TripAdvisor l'olio va cambiato. Se assistesse un'app che dà la possibilità agli studenti di valutare l'operato e i professori, questi non potrebbero più fare ciò che vogliono. Capite che voglio dire? Io vorrei sapere chi è questo figlio di bottana che si è inventato in questa app. Tuo figlio. Mio figlio. Scrive i 30 e cancella la tua città. Grazie professore. Dal latino gratis. Mi raccomando, collezionate i pallini. Il lavoro cancella i vizi generati dall'ossio. Bella questa. Ma di chi è di Seneca? No, di Seneca. Il ragazzo ha le consegne. L'ho reto in filosofia.